Musica Bentrovati telespettatori di TV Sera appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di lunedì 28 novembre. Dall'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che questa sarà interessata da fenomeni di instabilità lungo l'arco alpino, sulle regioni adriatiche e sulle isole, mentre sulle restanti zone del territorio italiano avremo condizioni di tempo stabile accompagnato da poche nubi. La ventilazione risulterà intensa dai quadranti settentrionali e i mari saranno generalmente mossi o molto mossi. Inoltre le temperature risulteranno in netto calo su tutto il territorio. Nel dettaglio al mattino sull'Abruzzo avremo condizioni di tempo instabile su tutto il territorio regionale. Le piogge più intense interesseranno in particolar modo la fascia costiera e non si escludono nevicate al di sopra dei mille metri sui monti. Nel corso del pomeriggio e della sera le condizioni meteorologiche vedranno un netto miglioramento, tuttavia i cieli risulteranno prevalentemente nuvolosi o coperti. Non escludiamo l'insistenza di deboli nevicate soprattutto sui monti. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo appuntamento. Nel corso del pomeriggio e dell'attenzione e al prossimo appuntamento.